L'ultima idea di questa sera, parliamo di teoria dei vincoli. Brevemente noi, circa 4 anni fa, siamo trovati davanti a una scelta. Abbiamo deciso di introdurre nella nostra gamma dei servizi una filosofia gestionale che permettesse alle aziende di applicare qualcosa di esteso. Abbiamo incontrato sulla nostra strada l'Aria Selmi, che è una consulente che si occupa di T.O.C. da circa 10 anni. E quindi ci siamo confrontati su questa cosa, abbiamo deciso di incominciare questo percorso insieme. Allora, l'obiettivo di oggi è abbastanza ambizioso, nel senso che è molto difficile in 20 minuti poter trasferire dei concetti che si applicano a 360 gradi in tutti gli ambiti aziendali, cioè in tutta la filiera produttiva interna, ma non solo, anche alla filiera produttiva in senso esteso, quindi lato cliente e lato fornitore. Come vedete, siccome Domenico mi ha alzato la palla sul discorso Lean Production, io cerco di schiacciarla subito, lo stesso fondatore, lo stesso ideatore della teoria dei vincoli, Eli Goldratt, che è un fisico israeliano, ha detto che le soluzioni definitive non esistono nella realtà, nella realtà esistono solo soluzioni potenti. Cioè, va analizzato il tipo di realtà in cui la soluzione deve essere applicata e scelta la soluzione più adeguata. Tra parentesi, Goldratt è entrato l'anno scorso in Toyota e sta applicando la teoria dei vincoli proprio là, in ambito giapponese, dove è nato il Toyota Production System e dove il signor Hono, che è il fondatore appunto di questo sistema, da cui poi derivano la Lean Production, il Just in Time e tutte le violenze che alla filosofia originaria sono state fatte nelle traduzioni europee ed americane, sta applicando proprio là questa teoria, verificando anche i tanti punti di contatto che ci sono. Quindi, l'innovatività della nostra proposta sta nel fatto che, andando un po' controcorrente rispetto a quella che è la cultura industriale italiana, vi proponiamo una filosofia organizzativa che non parla di linee bilanciate, di bilanciamento di sistemi, ma parla di linee sbilanciate. E forse il dottor Avai avrebbe qualcosa da dire in merito. La teoria dei vincoli nasce alla fine degli anni 70, come vi ho detto, per elaborazione di un fisico israeliano, il dottor Goldratt, che dopo una tesi di dottorato in fluido dinamica venne chiamato in Israele da un amico che aveva dei problemi a organizzare la propria produzione. Di fatto, la teoria dei vincoli oggi, con tutte le parti che Goldratt ha sviluppato, pur essendo nata come teoria di gestione della produzione, è diventata un insieme di filosofia manageriale, misure economiche, algoritmi tecnici di gestione, strumenti logici, ma soprattutto approccio mentale, con cui i manager e gli imprenditori dovrebbero confrontarsi per estrarre il massimo valore dagli asset fisici, produzione, logistica, magazzino ed umani, risorse umane e capacità di vendere, della propria azienda. L'obiettivo è trasformare il più velocemente lo sfruttamento degli asset in denaro.